Una ghiacciaia, probabilmente risalente al periodo medioevare, ai piedi del bastione della Diacciaia della Fortezza Medicea di Arezzo, da cui peraltro prende il nome, è stata riportata alla luce grazie agli scavi archeologici della Soprintendenza, finanziati dalla Fraternita dei Laici. Era stata una ricerca, portata avanti dal primo rettore Pierluigi Rossi, assieme al Collegio dei Geometri di Arezzo, a far ipotizzare che in questa area ci potesse essere una struttura forse collegata con un cunicolo per il deflusso delle acque, utilizzata appunto per conservare il ghiaccio. In pratica un frigorifero sotterraneo rimasto parzialmente visibile fino agli anni 50. Adesso lo scavo ha confermato l'ipotesi che la ghiacciaia nata nel tardo medioevo potrebbe far parte di un sistema idraulico particolarmente presente nell'area nei vari secoli di approvvigionamento idrico della città. Adesso è stata ricoperta per motivi di sicurezza in attesa di un intervento di più ampio respiro, potrebbe far parte di un vero e proprio parco vasariano assieme all'acquedotto e a tutti i suoi cunicoli.